Le due persone erano all'interno di un'automobile che alcuni residenti avevano segnalato come sospetta alle forze dell'ordine. L'atteggiamento dei due ad alcuni non era passato inosservato e così è stato richiesto l'intervento della polizia. In pochi minuti sono giunte in via Laspro, strada del quartiere Carmine, da tempo presa di mila dei ladri. Alcuni volanti della polizia hanno bloccato la vettura sospetta e fermato le due persone che poi sono state condotte in questura a Salerno per ulteriori accertamenti. Tutto questo è accaduto sotto gli occhi di residenti e passanti che hanno notato compiaciuti la scena. Da tempo via Laspro, via Calenda, via Seripando e via la Mennonella sono state prese di mila dei ladri. Diversi appartamenti sono stati svaliggiati in queste settimane. Furti avvenuti in tutte le ore del giorno, non soltanto di sera e talvolta anche con i proprietari all'interno della stessa abitazione. Tutto questo ha alimentato un clima di preoccupazione e di inquietudine che più volte Telecolore ha documentato. Proprio come accade in altre zone collinari del capoluogo e nei comuni della provincia di Salerno. Proprio ieri, tra l'altro, l'incontro tra questore di Salerno e del comandante della Polizia Municipale per predisporre un potenziamento dei servizi di controllo sul territorio. Da tempo i servizi di controllo sono stati potenziati in tutte le aree del capoluogo.